Franco, è proprio a te che stavo citofanando. E non è così, ma tuo padre viva ancora. Che cosa è successo a Giulio che urlava così forte? È stato solo un incubo, non l'ha di grave. Eh, mio marito l'altra notte stava chiamando i carabinieri, sai? Congratulazioni, è ufficiale. Ci sposiamo il mese prossimo. Ecco perché sei tornato qui, eh? Franco, sta tua madre? I miei se ne sono andati. Non è possibile, Franco. Come non è possibile? Da un paio di giorni nella nostra camera da letto, sento un cuccio veramente terribile che proviene dal soffitto sotto la camera dei tuoi genitori. Purtroppo la stanza dei miei non si può aprire adesso. E poi qui non c'è nessun cattivo dolore. Senti, Franco, la situazione su da noi sta diventando insopportabile. Ma di quale situazione sta parlando, mi scusi? Maria, mi ritorni ancora dinanzi agli occhi ogni volta che beramo un'altra donna e il profumo della tua pelle cancella quello di ogni altra pelle. Franco. Forse avrei fatto bene ad andarmene con i miei sin dall'inizio. è quello che c'è stato in questi giorni. Per Coco, il primo mostro d'Italia. Il primo imperdibile evento crime italiano. Solo il 17, 18 e 19 aprile al cinema. Grazie a tutti. Grazie a tutti.